La farigna media di un mobilificio di Palinuro in località Piano del Mingardo è andata completamente distrutta da un vasto incendio che ha richiesto l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco della provincia di Salerno, oltre ai caschi rossi di Policastro Bussentino sul posto anche quelli di Vallo della Lucania e del distaccamento di Sala Consilina. Potrebbe essere stato un cortocircuito a causare l'incendio, ma si ipotizza anche che possa essere partito tutto dall'esterno della struttura. Intanto le fiamme sono state domate e sono in corso accertamenti. Già dallo scenario si capisce facilmente che i danni sono davvero ingenti. Le fiamme non hanno risparmiato nemmeno una struttura ricettiva alle spalle della falegnameria ed anche due strutture abitative ed un deposito. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sapri e della stazione di Palinuro, gli uomini della protezione civile e la Polizia Municipale. La dinamica è tutta da chiarire, ma per fortuna non si registrano feriti. Diverse le persone che hanno deciso di lasciare le loro case vicino alla struttura in fiamme. Lingue di fuoco che hanno messo in allarme l'intera comunità. Tante le persone accorse sul posto per vedere cosa stesse accadendo. I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per cercare di domare l'incendio e soprattutto evitare che si propagasse ad altre strutture ed abitazioni della zona.